Salve, sono Salvatore Sabatino, un imprenditore che si occupa del settore dei trasporti e della logistica. Sono un giovane che ha deciso di restare in Calabria per poter cercare di creare sviluppo e anche posti di lavoro per i nostri concittadini. Sono un ragazzo che ha sempre contribuito nel sociale attraverso le varie associazioni, in particolare nelle associazioni sportive e anche ultimamente nelle associazioni politiche. In questa campagna elettorale ho deciso di scendere in campo a sostegno di Pippo Callipo, un imprenditore, un uomo ricco di valori e che ha una sua storia che ne parla da sola. Allo stesso tempo ho deciso di dargli un contributo perché credo nella sua persona, nelle sue capacità e nella voglia di fare. Noi come imprenditori, come giovani calabresi possiamo dare il nostro sostegno, la voglia di fare e specialmente la voglia di lavorare. Ai nostri cittadini chiedo un voto libero, un voto disinteressato. Chiedo che prima di andare a votare ci si informi su chi si va a votare e cosa si va a votare, perché il nostro obiettivo è di vincere, convincere e dare alla Calabria la sua dignità contro le politiche sovraniste. Io faccio parte della lista Democratici e Progressisti, che è una lista che sostiene il candidato alla presidenza Pippo Callipo, sarò nei vari territori per discutere con la gente, sto girando in lungo e largo tutta la provincia e quello che chiedo alla gente è questo, di andare a votare, di capire che cosa si va a votare, chi si va a votare e votate per il bene della nostra comunità. Votate Sabatino Salvatore, Pippo Callipo Presidente.